Quello che vedete è uno dei motori più potenti mai costruiti. Si tratta di una turbina del Boeing 777 ed è un motore turbofan a doppio albero. Questo tipo di motore è costituito da una turbina a gas centrale che converte l'energia dei gas di scarico in energia meccanica e da una serie di ventole esterne che aspirano l'aria dell'ambiente circostante e la comprimono prima di farla entrare nella turbina a gas. Si tratta di un motore particolarmente efficiente, circa un 50%, il che significa che più della metà dell'energia generata viene convertita in spinta mentre il resto viene dissipato come calore. E non dimenticatevi di una cosa, di iscrivervi al canale di Ingegneria Italia.